Ciao Carmen. Ciao Paolo. Come va? Bene. Sei sola? Eh sì, Beatrice è appena andata via con Benedetta. Eh vabbè, peccato, non l'ho fatto in tempo. Ciao, ci vediamo. Aspetta Paolo, mi stavo dimenticando, Beatrice mi ha detto di lasciarti questo. Ciao ragazzi. Ciao. Continuo a chiedermi perché sei così distante. E se leggi questo tema capirai che è una domanda che si è piaciuta. La persona più speciale che conosco è Samuel, un amico dei miei territori. Nenomalia che c'è lui, perché in questo periodo nessuno ha molto tempo per me. Chi mi racconta cosa è gusto e mi fa ridere. E poi è il mio struttore in piscina. Mi ha insegnato a notare a dorso, a rana e adesso mi sta insegnando anche a notare a portogli. Samuel mi racconta un sacco di cose interessanti e passa tanto tempo per notare. Una volta anche il mio papà la faceva, ma adesso dice sempre che la cosa più importante da fare. Mi raccomando Irma, questa la inoltri subito, è molto importante. Certo dottor Ferri. Grazie. Grazie a lei. Una volta quando ero nel tuo ufficio chiedevi a dirmi di non essere disturbato per nessuna cosa al mondo. Che prego, Laura. Ah sì, scusa. Non so neanche perché te l'ho detta. No, no, no. Allora, cos'è che mi volevi dire? L'altra sera quando ho avuto l'incidente, stavo venendo da voi al ristorante. Vorrei sapere come tenete in mente una cosa del genere. Non lo so perché l'ho fatto, l'ho fatto così perché... perché ero... ho reagito d'istinto senza ragionare e quindi è colpa mia se ho fatto l'incidente tutto. Laura, non mi piace vederti così, non mi piace. Ti prendi. Ah, vecchio. C'è di fare qualcosa. Cerca di riprenderti. Perché ti interessa qualcosa di me? Sì, mi interessa molto. Il fatto che tra le due la storia sia finita non vuol dire che io non ti voglia bene, che io non mi preoccupi per te. Ce ne vuol dire una cosa molto importante. Beh. Scusa. Sì, Irma. Mi scusi, dottor Ferri, ma ho una telefonata urgente per lei e il corriere speciale per Angusgo. Sì, grazie, lo passi. Sì? Mi dica. Oh, bene, era proprio quello che volevo sapere. Sì, certo, devi usare in tempo per poter organizzare tutto. Bene, bene, molto bene. Grazie. Grazie. Scusami. Vedo che hai molto interesse. In Hamburgo ancora. Cosa che mi devo dire? Non penso di volertelo dire. Scusami, ma non ti riguarda più molto. Buona giornata. Sono contento di vederla, Paolo. Allora, ha finalmente deciso di farsi operare? No. L'operazione non la farò mai. Ma è l'unica possibilità concreta che ha. Paolo, la prego, rifletta. No, io non voglio illudermi. Non voglio illudere la mia famiglia. Su questo punto non torno indietro. E allora perché è venuto qui? Ha dei problemi con la cura? No, solo di giramento di testa. Ho deciso di partire. Di partire? Per dove? E per quanto tempo? sempre. Un posto dove nessuno possa trovarmi. Dove finire la mia vita. che cosa diavolo ha intenzione di fare? E tu che cosa vuoi? Non vorrei denunciare nessun serio. Questa volta non la passerai liceo. Ci vuole un po' di giustizia in questa storia. A favore. Non fanno almeno adesso questa madre nostra madre. Non mettere in mezzo a nostra madre. Togliti dai piedi. Scusami. Se io fossi un mese, eh? Che cosa ci avrei guadagnato da questa storia? Che cosa avrei guadagnato con Elena in carcere? Te lo dico io. Niente. Assolutamente niente. Povero Ivan, sei vittima delle circostanze. Sei stato tu a mettere la borsetta nell'armadietto di Belbo per incastrarla. Sì, ma non sono stato io ad aggredire Anita. È stata Marina Croga. Quella donna mi ricattava. Io dovrei credere a questa storia. Ma credimi, per favore, la verità. Le volevo dire a tutti che io ero stato ad aggredire Anita e Anita non si ricordava niente del mio accidente. Io ero fattuto. Non avrei pagato soltanto le conseguenze penali. Anita non mi avrebbe più guardato in faccia per tutti il resto della sua vita e io non sarei più riuscito a farle vicino. Sei un eroe romantico. È così che ti vedi? Un eroe romantico. Per favore. Questa storia è morta e sepulta. Elena è stata scagionata. Belbo non rischia più niente. Ma allora perché rimangarla? Paolo, ascolti. Io capisco quanto sia difficile la situazione che sta attraversando in questo momento. Ma questa me la lasci dire con franchezza. La trovo l'ennusima assurdità. Avviso una soluzione migliore. Ci ho pensato molto in questo giorno. Anzi, non ho fatto che pensare a questa. So quello che devo fare. e alle persone che le vogliono bene, i suoi cari, a pensare. Soffriranno. Tanto soffriranno comunque. Per loro però la vita andrà avanti. Qualcuno prenderà il mio posto. Ma che diritto ha di scegliere anche per gli altri, eh? Di togliere alla sua famiglia il desiderio di starle vicino. Di aiutarla. Non possono aiutarmi. Loro non possono fare niente. Io invece penso che questa prova è così difficile. Posso insegnare tante cose a tutti. anche a lei, Paolo. Lei si sbaglia. Mi crede. La sua famiglia ha diritto di sapere la verità. Di conoscere. Di conoscere quello che sta attraversando lei in questo momento. Mi dispiace. ho deciso di devonarmi. Sto facendo soffrire tutte. Ho letto un tema di mia figlia. Non l'ho mai sentita così distante. E dove dovrete andare? E dove dovrete andare? Ma come faccio ad aiutarla? Ma come faccio ad aiutarla? A un proposito così assurdo? E dove dovrete andare... Ho? Ho. Vatm. .